Rieccoci, intanto ringrazio Rick, il follower che si è accorto che qui per far davvero il confronto tra i due metri di calcolo con l'IFELS e l'espressione condizionale bisogna promettere il comando che va a impostare il risultato prima del reset, altrimenti altrettanto doveroso poi condividere l'osservazione del buon Giovanni De Rosa che tanti di voi conoscono come partner per alcune delle piuttoste playlist del canale osservazione che riguarda la modalità di selezione di elementi di quella che poi alla fine abbiamo detto dovrebbe essere una form anche se l'altra volta mi sono limitato ad usare i campi di input ma trasformando il tutto appunto in una form, facciamolo con Emmet ok, e sta qui il senso dell'osservazione, potremmo anche evitare se ci sta un po' ostica la sintasi di selezione dei query selector quantomeno quelli un poco più complessi, magari non siamo ancora abbastanza allenati ma limitandosi a un semplice indicare l'ID di ciò che vogliamo selezionare, form è l'ID della form avremo sicuramente abbassato in un bel po' questa difficoltà potremmo poi scoprire che c'è una sintasi di accesso specifica e per questo particolarmente intuitiva per gli elementi di input contenuti in una form, che è questa che vedete alla riga successiva il linguaggio è il value dell'elemento che ha come name appunto linguaggio si parte dall'esterno, l'oggetto form è selezionato alla riga prima dei suoi elementi, ci interessa quello con name il linguaggio e di quello vogliamo il value l'alternativa che va in parallelo con le proposte precedenti è quella che poi adesso commento ma che ho messo qua sotto seleziona l'elemento il cui name è linguaggio ed è nello stato checked, di nuovo per avere il suo value dunque questa volta cavarsela con gli if e gli else è ancora più intricato perché il linguaggio prevede parecchie più possibilità, ricorderete c'è il C, C++ e così via cerchiamo comunque di seguirne la logica si controlla prima se il linguaggio scelto è il C, al che si aumenta lo stipendio di 100 altrimenti se il linguaggio è il C++ si aumenta di 200 altrimenti se il linguaggio è PHP oppure JavaScript lo incrementiamo in 250 altrimenti se il linguaggio è Java incrementiamo in 150 ultimo altrimenti se non hai scelto nulla allora ti tolgo 50 per queste situazioni dove sostanzialmente c'è da cambiare un calcolo a seconda del valore di una variabile possiamo ricorrere all'ultima delle forme selettive che il JavaScript mette a disposizione e cioè lo switch che poi è presente in praticamente tutti i linguaggi ancora metteremo in confronto il risultato calcolato con gli if else e quello col nuovo costrutto qui mettiamo intanto l'ore calcolato con gli if else nella casella retribuzione 3 sotto resettiamo non più semplicemente lo stipendio ma aggiungendo anche la parte calcolata in base al titolo di studio e all'esperienza ecco il costrutto switch e a colpo d'occhio penso che sia evidente come la struttura sia nettamente più lineare non serve più tutta l'attenzione di prima nel seguire gli if e gli else lo switch dopo l'if ha una via, l'if else ha due vie implementa la cosiddetta struttura a molte vie che strada prendiamo? dipende dal valore che ha l'espressione che indichiamo qua tra parentesi in questo caso l'espressione è ridotta alla semplice variabile linguaggio ogni blocco case break individua un diverso caso e se il valore della variabile linguaggio è c, il linguaggio c si procede quindi per confronto tra l'espressione indicata tra parentesi allo switch e quella indicata dopo ciascun case e se con bacia ci si ferma, si dice si cade in quel case e si vanno a eseguire la o le istruzioni tra il case e il break una ma anche due, tre, venti istruzioni in questo caso è sufficiente questa per incrementare di centro lo stipendio e poi break, il break è necessario perché fa uscire dalla struttura switch proseguendo poi con l'istruzione che va a impostare nella casella di testo retribuzione 2 il risultato ma non è che dimenticare il break sia per forza un errore lo vediamo qua sotto dove con le due espressioni del case PHP e JavaScript stiamo di fatto raggruppando due casi per i quali è necessario eseguire lo stesso blocco di istruzioni sia per PHP sia per JavaScript l'incremento deve essere infatti di 250 completiamo con Java è un po' come un if ha anche una parte else è questo caso finale default un po' il jolly vuol dire in tutti gli altri casi cioè se non sei ricaduto in nessuno dei precedenti allora comportati così non è un obbligo mettere la parte default qua immaginato che beh insomma se non conosci neanche un linguaggio di quelli che ho elencato ti tolgo 50 vediamo il tutto in azione se non scelgo nulla 1200 più 300 1500 non conosco neanche un linguaggio mi sono tolti 50 euro 1450 e 1450 questa volta scegliamo JavaScript per vedere i conteggiati poi 250 in più rispetto al titolo di studio più esperienza lavorativa va bene dopo aver visto l'impianto generale passiamo a qualche dettaglio ho già accennato al fatto che qua tra parentesi possiamo mettere un'espressione anche piuttosto complessa l'importante è che il tipo del risultato sia compatibile con le espressioni che poi andremo a indicare sotto nei case una cosa così che però qua ovviamente non ha molto senso e giocando pericolosamente aggiungerei io potremmo anche organizzare dei case con un tipo diverso di riferimento linguaggio a seconda dell'estrazione di questo numero casuale math.random restituisce un numero tra 0 e 1 se è oltre la metà allora il valore di linguaggio diventa c altrimenti il numero 4 al che ha un senso questo case con l'etichetta 4 come valore di confronto che può coesistere con le altre che hanno invece il tipo stringa qualche volta cadremo nel case 4 e qualche volta nel case con la C possiamo anche organizzare switch coerenti anche cambiando il tipo numerici come questo ora qui io non mi fiderei però tantissimo del double perché sapete che i confronti lasciano un po' a desiderare ancora ancora con valori costanti letterali assegnati da noi potrebbe ancora reggere ma con delle formule che potrebbero generare errori di approssimazione rimarrei allora su un classico if else e non facendo i confronti con l'uguaglianza ma abbiamo visto con la differenza tra i due valori e due espressioni da confrontare e decidere in base al fatto che questa differenza sia più piccola di una certa soglia di 0 0 0 0 1 allora li consideriamo identici come dire che personalmente ad occhio userei lo switch numerico solo con gli interi ecco un'ultima struttura che possiamo organizzare con lo switch ai case devo dire che non ho praticamente mai usato personalmente una forma che potremmo definire in cascata non appena combacia una delle espressioni del case verranno eseguite tutte le istruzioni da lì in avanti e fino al break naturalmente con 3 si salterà questa parte questa parte non è un obbligo mettere tutti i valori non ho messo il 2 nessun problema qui abbiamo un match andrà perciò ad aggiungere 10.000 e poi in cascata anche questo 100.000 il risultato scusate la pigrizia un rapido alert dovrebbe essere 110.000 eccolo qua 110.000 se invece mettessimo 0 se li papperebbe tutti diventando 111.100 eccolo qui torno allo switch di prima per un ultimissimo particolare case break potrebbero far erroneamente pensare a un blocco ciascuno isolato dagli altri come un po' i blocchi dell'if e dell'else che lo sono grazie alle parentesi graffe ma non è così cosa intendo il case break non crea un blocco con la possibilità di definire delle variabili locali se qua abbiamo definito la y non c'è tenuta stagna tra i due blocchi vuol dire che quella y è definita è visibile anche in questo case tant'è che se si tentasse di definire quella che nel nostro intento dovrebbe essere una y separata facendo partire la pagina l'identificatore y chiarissimo è già stato dichiarato allo scopo può essere davvero raggiunto usando le graffe una qui e una qui adesso si che già così non c'è interferenza se volessimo rendere locale questa seconda y anche qui potremmo mettere un'altra coppia di delimitatori parentesi graffa e con questo chiudo l'argomento switch a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti